Buonasera dal telegiornale di Media24. Era un giorno qualunque di cinque anni fa quando una bomba sganciata da un aereo del presidente siriano Assad colpì in pieno il bazar della città di Idlib facendo una strage. Un uomo rimasto privo di un arto e miracolosamente sopravvissuto ma sua moglie che era incinta respirando il gas nervino che sprigionò da quell'ordigno diede alla luce un bimbo Mustafa privo di braccia e di gambe. Il caso vuole che a Siena viene organizzato un concorso internazionale di fotografia e l'immagine di quel padre senza una gamba che alza al cielo Mustafa quasi in un disperato inno alla gioia o forse alla speranza della vita scattata da un reporter turco Mehmet Aslan vince il primo premio. Ma la storia non finisce qui perché quella fotografia colpisce così tanto penetra nel profondo di chi la guarda da spingere tante persone e istituzioni a correre in aiuto di quella famiglia e di quel bambino. Ora la famiglia di Mustafa è ospite della Caritas di Siena e potrà essere curato come suo padre e avere la possibilità di un futuro degno di questo nome. Attorno a questo episodio potremmo sprecare tante parole e magari scivolare nella retorica o in vuote dissertazioni. Ma quanti Mustafa ci sono in giro per il mondo e anche qui in Italia quanto dolore e quanta ingiustizia attraversano la vita di tanta gente. Noi italiani viviamo un tempo difficile, siamo accompagnati ormai da tanti anni da un clima pesante, ora accentuato dalla pandemia. La crisi economica incombe sulle nostre teste come una spada di Damocle. Anche noi abbiamo tanti poveri che non hanno nulla, che riempiono ogni giorno le mense delle associazioni caritatevoli, che non hanno spesso nemmeno un letto su cui dormire. Eppure, nonostante i tanti problemi che ci angustiano, siamo capaci di gesti di solidarietà che in poche parti del mondo si vedono. La storia di Mustafa e il suo lieto fino è per tutti un segno di speranza, la speranza che comunque dal dolore e dalla sofferenza ci può essere sempre una via d'uscita. E consentitemi senza retorica di dire che storie come queste mi fanno sentire orgoglioso di essere italiano. L'assessore alle politiche giovanili del Comune di Pordenone, Alberto Parigi, la dirigente comunale del settore, Flavia Maraston e il referente di Informa Giovani, Piero Della Putta, hanno presentato ieri i nuovi progetti indirizzati alle politiche giovanili del Comune di Pordenone. Pronta a partire la rubrica settimanale pomeridiana all'interno dello spazio radiofonico della web radio pordenonese Wide Line Radio, che darà voce a idee, aspirazioni, emozioni dei giovani, delle classi terze e delle secondarie di primo grado, delle secondarie di secondo grado di Pordenone e dell'Istituto Galvani di Cordenons. E sono iniziati a Cussignacco i lavori di sostituzione delle barriere stradali di via Veneto e la sistemazione dell'Argine della Roggia di Palma. Cussignacco, ha commentato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, aspettava da anni la messa in sicurezza dell'Argine e la sostituzione delle barriere di questa importante strada di collegamento con via Marsala e il centro di Udine. I lavori hanno un valore complessivo di 160 mila euro e dureranno circa tre mesi. Il piano di risienamento acustico, che riguarda in primis la posa di barriere antirumore lungo i tratti ferroviari che attraversano i centri abitati, è in forte ritardo. È necessaria un'accelerazione su questa tematica perché la popolazione comincia a essere insofferente sulla situazione di disagio che subisce. Così il capogruppo di Forza Italia, in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Nicoli, nel corso dell'audizione dei tecnici di rete ferroviaria italiana nella quarta commissione permanente. Aiutare il sistema universitario goriziano a intercettare i fondi dei programmi europei al fine di migliorare ulteriormente e consolidare la presenza dell'alta formazione in città. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato tra il Consorzio per lo sviluppo universitario del Goriziano e Informest Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale. La firma di questo accordo, ha commentato il Presidente del Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, Paolo Lazzeri, è il frutto di un grande lavoro di squadra. Il Consorzio non è solo un tramite fra istituzioni e università, ma è capace di essere motore di azioni per lo sviluppo di Gorizia come città universitaria. E che è il Turchetto, la nuova Presidente del Consiglio Direttivo di Federalberghi Caure, l'associazione sindacale che riunisce e rappresenta oltre 130 imprese alberghiere della località balneare. Nel corso della riunione di mercoledì scorso il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni del primo Presidente di Federalberghi Caure, Loris Brugnerotto, che per motivi personali ha lasciato la carica. Brugnerotto rimane però all'interno del Consiglio e proseguirà dunque il suo impegno in favore della categoria. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono Ceglio Bortoluzzi, Nazareno Cosmo, Alberto Borin, Marco Catto, Nazareno Mazzarotto, Giorgio Rosso, Diego Negretto, subentrato a Mattia Munerotto dopo la nomina di quest'ultimo ad Assessore del Comune di Caorle. E nelle domeniche del 23 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo e 3 aprile di quest'anno si svolgeranno le giornate ecologiche, iniziativa che vede il Comune di San Donato di Piave, impegnato in prima linea nelle azioni di riduzione dell'inquinimento atmosferico, come previsto dalla legislazione regionale del Veneto. Stop quindi ai veicoli dalle 8.30 alle 18.30, nel raggio di circa un chilometro al massimo dal centro, in modo da poter comunque raggiungere i luoghi come l'ospedale, il centro vaccinazioni, il cimitero e le chiese, con l'eccezione di quelle centrali. Il Palazzo Municipale di Cividale del Friuli inaugura il nuovo ascensore in funzione da ieri. La struttura è stata realizzata in questi ultimi mesi dal settore pubblico del Comune, grazie ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche interne. Il palazzo risale al 1.286. Nel corso degli anni l'edificio ha subito profondi rifacimenti, fino al più recente intervento nella seconda metà degli anni 60, a firma dell'architetto Gianni Avon, che in aderenza alla loggia municipale di epoca medievale ha progettato un nuovo edificio di tre piani, oltre allo scantinato che oggi ospita gli uffici del sindaco, del segretario, degli assessori e di alcuni servizi comunali. L'ascensore è stato installato nella corte interna ed è in grado di servire tutti e tre i piani fuori terra dell'edificio. Acque, Ecomuseo della Venezia orientale, recentemente costituito da 22 comuni della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, ha ottenuto con deliberazione della giunta regionale il riconoscimento ufficiale della Regione Veneto e potrà quindi freggiarsi del titolo di Ecomuseo del Veneto. I soggetti riconosciuti entrano a far parte della rete regionale degli Ecomusei e possono interloquire con la Regione nella progettazione e realizzazione del forum degli operatori di settore. Acque è tra i tre Ecomusei riconosciuti, insieme a quello di Arcole in provincia di Verone e all'Ecomuseo Valle del Bois, fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo in provincia di Belluno. L'Ecomuseo intende caratterizzarsi come rete partecipata per la conoscenza, la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, storiche e ambientali della Venezia orientale, a partire dal tema delle acque e della fruizione attraverso la mobilità lenta. E il consigliere regionale del Partito Democratico Nicola Conficoni interviene sulla situazione sanitaria del Pordenonese, rimarcando le responsabilità dei decisori regionali sui ritardi e sulle difficoltà che il sistema sanitario della destra tagliamento incontra ormai da anni. La mancata sostituzione del direttore generale secondo Conficoni dimostra la volontà del Governo regionale di non voler affrontare in modo radicale i problemi presenti, rimarcando la scarsa credibilità della direzione generale che dopo aver imposto un atto aziendale bocciato dai sanitari ha fatto marcia indietro, evidenziando un atteggiamento contraddittorio e poco credibile. E in Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 12 al 18 gennaio è stato registrato un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti pari a 4.270 unità ed è stato evidenziato un aumento dei nuovi casi pari al 16,6% rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia. Secondo il report in Friuli Venezia Giulia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 78,7%, leggermente inferiore alla media nazionale del 79,6%. E continua domenica 23 gennaio la rassegna regionale di teatro popolare, iniziativa culturale organizzata dal Comitato Provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco. Alle 16 nell'auditorium Concordia a Pordenone la compagnia teatrale Proposte Teatrali di Trieste porterà in scena la commedia in triestino Casalinghe di Sperade con l'adattamento e la regia di Alessandra Privileggi. E qualche notizia di servizio lunedì prossimo 24 gennaio mandiamo in onda uno speciale di Italpress sulle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica a cura di Claudio Brachino che manderemo in onda nel corso della serata. Ora vi lascio alle previsioni del tempo e poi alla rubrica curata da Alessandro Porro su Italo Gavardo e le sue rime vernacole seguiranno servizi e rubriche di approfondimento a cura di Italpress. E con questa ultima notizia io vi ringrazio dell'attenzione e come sempre vi auguro una buona serata e un in alto i cuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.